Ancora fiamme all'Alfa Edile, l'ex deposito di rifiuti speciali sotto sequestro ormai da diversi anni, situato nella zona industriale di Brindisi alle spalle dell'STP. Le fiamme si sono propagate velocemente, complice il gran caldo e l'esterpaia da cui il deposito è ormai circondato in stato di abbandono. All'interno dell'Alfa Edile sono ancora depositati però dei residui di balle di rifiuti speciali sopravvissuti ai precedenti incendi. L'ultimo in ordine di tempo, quello del dicembre 2010. Sul posto anche questa volta per domare le fiamme i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che hanno dovuto combattere oltre che con il fuoco anche con un odore acre e nauseabondo che ha invaso tutta la zona. Bisogna capire ora se quelle colonne di fumo hanno sprigionato anche di ossina e soprattutto bisognerà capire di chi sono le competenze per bonificare quell'area. La società è in una procedura fallimentare dunque al momento è difficile individuare fisicamente un responsabile dell'Alfa Edile. L'auspicio è che la zona industriale venga liberata da una fonte certa di inquinamento ambientale.